Un gruppo di spericolati ingegneri del Jet Propulsion della Nata, quello che ha mandato su Marte Curiosity, per capirci, sta lavorando alla realizzazione di piccoli elicotteri da spedire sul pianeta russo in esplorazione. In effetti, se anziché percorrere il suolo marziano potessimo prima sorvolarlo con delle videocamere e capire quali sono le rotte più convenienti, sarebbe un bel vantaggio per i rover.